Musica Telespettatori di Telequattro buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento con Trieste in diretta come sempre trasmissione divisa in due parti, nella seconda parleremo di omicidio stradale con un esperto di queste tematiche alla luce anche delle più o meno recenti innovazioni legislative che hanno appunto individuato e precisato esattamente quelle che sono le modalità di incidenti stradali con cui fa seguito appunto la perdita della vita da parte di una o più persone coinvolte nell'incidente e quindi anche tutte le pene, le procedure giudiziarie che sono ad esse correlate. In questa prima parte invece sono in compagnia del dottor Istok Spettici, psicologo e psicoterapeuta, buonasera e ben ritrovato, con il quale tratteremo un argomento credo di grande attualità, quella che è un po' la depressione, quella magari quella venire meno della voglia di vivere che si manifesta in certi anziani, capiremo adesso col dottore quanto vasta è questo tipo di situazione e come può essere ovviamente affrontata se non per ovviamente eliminarla del tutto ma perlomeno per contenerla. Allora potremmo iniziare intanto a dare se è possibile, se esiste una sorta di descrizione, se vi sono delle differenze innanzitutto fra una depressione, quella che viene comunemente detta anche magari da persone più giovani, ah sono depresso, mi sento così, in situazioni appunto interiori, non felici rispetto a quella che magari può essere relativa a una certa età. Ma io penso intanto che bisogna fare un po' di chiarezza perché spesso il termine anche depressione viene abusato, nel senso che bisogna distinguere fra una tristezza, una demoralizzazione e altre cose, dalla patologia che è la depressione maggiore, in cui ci si ritrova con vari sintomi che vanno non solo dalla tristezza ma anche proprio dalla mancanza di voglia, di fare le cose, di non vedere una via d'uscita di affaticamento anche fisico perché spesso si parla anche di sintomi fisici, no? E questo è da distinguere invece da situazioni di vita in cui possiamo normalmente essere tristi, no? Anche disperati. Questa è la grande distinzione. Poi c'è da notare anche il fatto che per esempio se all'inizio, ma si parla del secolo scorso, si faceva anche proprio, c'era la classificazione, la diagnosi di depressione senile, adesso non esiste più. Si parla di depressione nell'anziano, perciò la depressione maggiore è vista nel periodo dell'anzianità praticamente, no? Da punto di vista temporale, quando scatta, fra virgolette, la fascia di anziano? La fascia di anziano adesso si sta modificando, diciamo dai 65 anni in poi. Perché la vita media si è allungata? Sì, infatti quando mi sono anni fa ancora documentato, cercavo varie informazioni proprio sulla depressione senile, sono rimasto anche sorpreso perché la prima definizione, la prima diagnosi era appunto di tanti anni fa e si parlava di depressione senile del 40 anni in poi, per capire quanto cambia anche il concetto di anzianità nella nostra cultura. Ecco, come si fa a capire? Cioè esistono delle sintomatologie precise o piuttosto, diciamo, questo tipo di situazione interiore che poi appunto si manifesta, come sottolineava lei, in vari modi anche comportamentali, eccetera, eccetera, così cresce e quindi c'è un punto nel quale c'è una sorta di non ritorno, diciamo così. Ma diciamo per diagnosticarla la maggiore difficoltà è nel fatto che certi sintomi e certe anche caratteristiche proprio del periodo di vita dell'anziano vanno a combaciare un po' con i sintomi che possono essere poi tipici della depressione, nel senso che un decadimento fisico, intellettuale, la memoria che non funziona più tanto bene, il fatto che magari non hai più contatti, relazioni significative, a parte diciamo il nucleo familiare che magari ti segue, contatti, il fatto che non sei più attivo anche nella società e tutte queste cose fanno sì che anche nella normalità c'è una sorta di tristezza di base e di isolamento. Logicamente quando tutti questi sintomi vanno a creare una situazione che si vede che è molto più grave, nel senso che l'anziano non fa fatica ad alzarsi del letto, fa fatica a fare le cose di ogni giorno, si può andare a vedere se si diagnostica una depressione e poi si cerca di aiutarlo a livello anche medico. Certo, in questo senso allora penso che chi magari, sento anche fra i miei amici, dice non vedo l'ora di essere in pensione eccetera eccetera, in realtà non è che sia poi una cosa così positiva a non avere più un ruolo attivo, a non avere più un lavoro eccetera. Ma l'amore di Dio esistono mille alternative, però diventano scelte personali, non più un obbligo quotidiano di alzarsi e andare a fare un lavoro o fare un'occupazione. Quindi magari prima di dire non vedo l'ora di andare in quiescenza, uno dovrebbe pensare anche alle conseguenze potenziali in termini di impatto sulla nostra psicologia da questi cambiamenti radicali di vita. Sì, certo, perché appunto si parla proprio di un cambiamento di vita, una crisi che la vivremo, la viviamo tutti, in un certo senso è bisogno. Ecco, però queste forme di depressione sono originate da una sorta forse di rifiuto da parte dell'anziano, proprio del fatto che si sta evolvendo con evidentemente un traguardo più o meno lungo, ma che è inesorabile, che magari a 30-40 anni ci vada e non ci pensi, chiaro che ha superato una certa soglia, comincia a vederlo un attimo più vicino, vede anche magari manifestarsi di varie malattie e quindi uno, come dire, si deprime in quanto a queste situazioni ma rifiuta il concetto di essere... Ecco, questo voglio dire, la depressione è consapevole o meno? La depressione all'inizio ci può essere un lato consapevole nel fatto che ci si rende conto di varie cose che sono cambiate nella vita. Poi logicamente il fatto di ammalarsi di depressione diventa come uno sfondo della vita che pian piano si insinua nella vita della persona e perciò non si rende più consapevole e non si ricorda neppure più dell'energia magari che aveva quando non era di presso. Questo di solito lo notano i familiari, quelli che li stanno accanto. Certo, infatti questo è un modo di esprimersi, di comportarsi, anche di atteggiarsi magari, per chi ha appunto la fortuna, perché poi lei giustamente diceva prima, vengono meno tanti rapporti umani con amici, eccetera, a luoghi in cui magari si frequentava fino ad un certo punto, la famiglia bene o male intorno all'anziano dovrebbe rimanere, ma non sempre è così. Sappiamo che Trieste è una città in questo senso purtroppo che ha tanti esempi di anziani per casualità e purtroppo spesso anche qualche volta, anzi dai, per volontà degli eredi, ma anche per impossibilità, perché magari non lavorano più a Trieste, sono trasferiti, quindi hanno difficoltà però persone sole, ce ne sono tante, assistiamo purtroppo anche a notizie ogni tanto di morti in solitario, di persone che vengono trovate magari anche dopo giorni, proprio perché qualcuno si è accorto che Tizio o Caia non si sentivano più, non si sentiva magari il rumore dell'appartamento, non si vedevano la luce accesa, eccetera. Sì, diciamo che il problema proprio della solitudine, dell'isolamento, è anche il fattore che provoca di fatto la depressione. Poi logicamente c'è da fare anche di chiedersi e fare un ragionamento anche proprio culturale, nel senso che noi viviamo adesso in una cultura, in una società, in cui già l'anzianità è vista e diciamo evitata in un certo modo, c'è il mito dell'eterno giovane, il mito della forza che dura per sempre, tutte queste cose si vede sia nella società civile, ma anche nello spettacolo, di anziani che sono ancora molto attivi in questo senso. E in questo senso anche purtroppo appena da poco tempo si è andato a cercare di aiutare gli anziani nel punto di vista proprio psicoterapeutico. Se una volta si vedeva appunto come, come si diceva prima, una fase di vita che è normale, adesso si cerca anche di aiutare, anche perché ci sono sempre più anziani e c'è sempre anche la vita che dura di più. E perciò tutto il discorso si è spostato un po' in questo senso. Devo dire che negli ultimi tempi si vede anche, c'è il bisogno, anche prima si parlava delle famiglie, delle famiglie che sono in aiuto, sono vicine agli anziani, si è visto che c'è bisogno di aiuto anche proprio da parte dei familiari che richiedono aiuto perché l'assistere a volte a una persona che anche soffre di depressione oltre che di altre patologie magari mediche, inerenti all'età avanzata, è a volte anche un fattore a rischio proprio per quelli che gli stanno vicino, per i caregivers. Certo, la depressione ha un decorso, arriva a un certo punto che può trasmarsi in una sorta di disperazione, c'è veramente di abbattimento totale di qualsiasi tipo di stimolo quasi vitale, in direzione, tenendo per vita tutte le azioni complessive che noi quotidianamente compiamo. Sì, sì. In questo senso però c'è una differenza, prima lei parlava di, non si parla più di depressione senile, ma di depressione dell'anziano. Una persona invece ancora in realtà lavorativa, magari abbiamo sentito dei casi, il lavoratore che perde il lavoro, si trova senza risorse, da questo magari deriva anche una crisi familiare, abbiamo letto, sentito, di situazioni veramente tragiche, veramente estreme. Anche lì c'è una depressione, però dal vostro punto di vista psicologico fate delle differenziazioni fra questi due tipi di manifestazione o alla fine comunque l'origine è sempre la stessa, cioè il venir meno, cioè come dire, sentirsi quasi mancare la terra sotto i piedi. Sì, no, di fatto è simile in entrambi, perciò non c'è tanto una distinzione, proprio per questo poi si è lasciata la diagnosi di depressione senile, no? Perché quando si parla di depressione di fatto è in ogni età può succedere. Logicamente le cause e i fattori che possono scatenare possono essere simili, no? in certe circostanze perché come si è detto, magari uno che perde il lavoro perde come l'anziano può perdere un ruolo nella società, può perdere l'autonomia economica, può perdere i rapporti con i familiari, tutte quelle cose, i fattori sono esattamente gli stessi che possono capitare nell'anziano per altre ragioni. Certo, però in questo caso il vostro approccio immagino sia diverso, cioè la cosa magari interagire e curare, se è corretta la parola che sto usando, una persona ancora in età lavorativa che quindi forse magari gli si dà una mano a trovare un nuovo lavoro, gli si possono dare degli stimoli legati magari alla responsabilità dei confronti di una famiglia che lui ha di una moglie di figli. Un anziano invece che si trova magari a dover combattere con delle malattie spesso anche irreversibili, non che possono solo che peggiorare. Lì che tipo di approccio puoi fare? No, lì più che altro si parla di un lavoro sull'accettazione dello stato che comporta anche l'anzianità. Cioè una sorta di cure palliative potremmo invece diversi definire. Ma sì, più che altro appunto... Nel senso psicologico del termine. Sì, no, poi logicamente le cose si possono complicare perché di fatto di solito spesso capita che l'anziano appunto ha anche altre malattie organiche, no, anche irreversibili, che vanno anche a, a volte anche a aumentare certi sintomi che poi vengono fuori a livello psicologico, no, dal diabete o problemi al cuore, tutte queste cose qua, provocano di per sé certi sintomi come l'ansia, altre cose che possono aggravare un quadro clinico che è la depressione. Certo. Perciò si va, si cerca, diciamo, un po' più complicato, no, da curare, però il lavoro è più che altro appunto su una citazione dei propri limiti e anche di trovare un nuovo ruolo, no, nel proprio ambito, nella propria cerchia e cose così. Certo, cioè in questo senso credo siano validi tutte quelle iniziative, associazioni di volontariato, eccetera, che appunto offrono occasioni di svago, di interazione con altre persone, anche con bambini, so, ad esempio mi raccontavo una volta il direttore dell'ITIS, Fabio Bonetta, che hanno sperimentato con successo e stanno portando avanti con assoluta costanza il fatto di portare delle scolaresche dei bambini in visita agli anziani recuperati all'ITIS e c'è proprio un'interazione importante, quindi oltre ai familiari, oltre ai nipoti, ai figli, eccetera, anche ragazzini estranei che quindi imparano anche loro a conoscere la figura dell'anziano e a saper rapportarsi con essa, quindi c'è anche un ritorno reciproco, se vogliamo, di divano noi. Sì, sì, e poi il dato importante è anche il fatto che si cerca finalmente un po' di, dato che si parla già da anni, no, del cambiamento sociale, proprio nella struttura della società, che c'è meno coesione, c'è meno famiglia, c'è meno tutto, in questo senso si cerca di ricreare un po' quello che era, diciamo, le dinamiche familiari tipiche una volta della famiglia, dove l'anziano aveva un ruolo fino alla fine, no, l'anziano era il saggio, quello che anche se non fisicamente però poteva aiutare, anzi era indispensabile nella famiglia. Certo, ecco, lei dal punto di vista professionale, quindi come svolge questo tipo di particolare di attività? Cioè ha degli anziani che segue, sono loro che si rivolgono a lei, magari con l'ausilio di figli che segnalano situazioni appunto in essere, ma magari sono persone che non riescono a muoversi o che non vogliono muoversi di casa, quindi magari è lei che deve andare a domicilio. Cioè un po' come viene costruita questo tipo di rapporto e come si concretizza anche materialmente nel suo intervento? Ma diciamo io direttamente interventi con gli anziani non ne faccio, no? Ho avuto e ho vari casi in cui appunto, come dicevo prima, magari sono i familiari che richiedono aiuto anche per loro stessi, no, per riuscire a reggere una situazione, no? Logicamente a volte quando si parla di depressione nell'anziano la cura si basa più che altro a livello farmacologico in primo momento dove si cerca un po' di sollevare almeno l'umore per poi riuscire a cambiare certe cose, certi atteggiamenti, no? Spesso, e in questo senso io spesso faccio il paragone, il lavoro è un po' quello che io faccio per esempio quando vado a fare terapia con i bambini, con l'atto opposto, no? Nel senso che si cerca sempre di bilanciare le dinamiche che sono quelle familiari ovvero a volte sono anche l'origine, possono essere l'origine anche la risoluzione di un determinato stato Certo, quindi anche i familiari che si rivolgono per un supporto psicologico in qualche maniera hanno bisogno, oltre che di una sostegno per se stessi forse anche di una sorta di formazione, di educazione ad affrontare il rapporto con gli anziani in questo senso Sì, sì, perché logicamente, specialmente i familiari, quelli più vicini logicamente vivono un rapporto, da un punto di vista emotivo, molto molto forte perché logicamente di solito si parla di familiari, di genitori, insomma, o zii o nonni, quel che si voglia D'altro lato, logicamente, devono anche loro assimilare e accettare una sorta di impotenza che vivono spesso, non nell'aiutare e cercare di aiutare è la stessa impotenza che poi vive ogni familiare di una persona depressa, di fatto e perciò già il fatto che il familiare riesce a reggere, a gestire meglio certe emozioni sue poi di solito va a aiutare anche le persone che ha bisogno di aiuto Certo, in questo senso l'azienda sanitaria interviene, vi siete coinvolti anche come professionisti nell'assistenza, cioè, qual è anche il vostro ruolo? Perché, insomma, sappiamo che anche le tendenze degli ultimi anni, anche proprio della clinica della cura degli ospedali, vede una presenza attiva anche degli psicologi che forse in un passato più lontano non c'erano, no? Adesso invece delle corsie dell'ospedale, perlomeno in certi reparti c'è anche un supporto psicologico, questo si manifesta anche poi a livello di distretti cioè, avete un ruolo a 360 gradi? Sì, diciamo, il ruolo sta, sta, anche proprio negli ultimi anni sta cambiando il ruolo del psicologo, da poco è stata anche finalmente definita come professione sanitaria psicologo, no? Da poche settimane, no? E perciò, diciamo, c'è un ruolo sempre più attivo in questo. Io devo dire, della mia esperienza da psicoterapeuta privato, devo dire che negli ultimi anni si è visto sempre di più un lavoro di rete, anche da privato con, che ne so, con la psichiatria, no? O anche con i medici di base, no? E tutto quanto, e c'è un lavoro, un collegamento per aiutare poi la persona, questo sì. Certo, ma diceva che avete anche un riconoscimento dal punto di vista quindi legislativo di un ruolo di professionisti quindi della sanità. Sì, sì, di fatto siamo adesso equiparati ai medici, altre professioni sanitarie. Da questo punto di vista potete anche quindi prescrivere i farmaci? No, 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 questo no, no, i farmaci... Limitati ovviamente all'abito psicologico, non parlo ovviamente di altri tipi di farmaci, ma per i fossi strettamente connessi alla vostra... No, no, quello no, resta un ambito della psichiatria. Ah, della psichiatra, certo. Medico-psichiatra, certo, certo, certo. Cosa volevo dirle? Dal punto di vista poi parlavamo proprio dell'approccio con l'anziano che appunto soffre di questo tipo di problematiche, no? C'è l'approccio da parte vostra stimolata, ma hai detto, dalla famiglia piuttosto che da altri tipi, anche da qualcuno, insomma, che in qualche maniera vi coinvolge e vi fa conoscere la persona, ma a quel punto esiste un punto in cui si può dire la persona fra virgolette è guarita, non so se sto usando un termine adatto a questo tipo di situazione, o invece il vostro intervento da quando inizia accompagnerà quell'anziano fino alla fine dei suoi giorni? No, ma diciamo il concetto di guarigione è difficile da applicare in questo senso, logicamente il lavoro, quello che si cerca di fare, è di far stare meglio le persone, no? Logicamente non guarire, guarire dall'esperienza che può avere appunto di varie malattie fisiche, tutti i fattori che abbiamo elencato, no? È un po' impossibile, no? Ma il fatto già di accettare e trovare appunto, come si è detto, un ruolo magari anche piccolo, però attivo è un senso, no? In questo aiuta tantissimo l'anziano a viverle in un modo molto migliore. Certo, però fate, lo stimolate anche a una sorta di introspezione in questo senso, di capire e farsi anche una ragione in termini, per quanto possibile, di obiettivi, di quello che è il suo percorso di vita che sta vivendo e che lo aspetterà, o invece, come dire, non dico che si vanno a creare delle illusioni o si vanno a coinvolgere soggetti esterni, però alla fine io ho sempre saputo che il vostro principale ruolo è quello di fare un lavoro interiore alla persona che avete davanti perché all'interno della persona deve nascere quella forza, quella consapevolezza, quegli stimoli che li permettono di superare da altre situazioni. Ecco, in un anziano quanto è più difficile arrivare a questo tipo di risultato? Ma anche in questo senso parlare in generale è un po' difficile perché logicamente ogni persona poi è un soggetto a sé che purtroppo, appunto come si è detto, poi nell'anziano va a complicarsi con varie altre cause e patologie già in atto. Logicamente in un anziano dove c'è anche un declino cognitivo, verbale, della memoria, è molto difficile parlare di un lavoro più introspettivo, però spesso si riesce a attivare certe risorse che comunque già l'esperienza di una vita sono interne all'anziano e queste sicuramente possono aiutarlo. Logicamente poi dipende da caso a caso. Certo, in questo senso spero di non generare una sua risposta magari un po' così perpressa. La religione può essere un strumento che chiaramente magari non è lei che in cui la persona va a fare una sorta di catechesimo, però in generale anche per la sua esperienza negli anziani è l'essere depressi in qualche maniera forse contrasta per chi è religioso in un'aspettativa di vita oltreterrena, di fede, di percorso di fede, eccetera. Allora volevo capire anche questo aspetto, come si manifesta e come si può gestire. No, ma io assolutamente penso che la religione, ogni religione, come ogni ragionamento sulla vita, anche sul dopo vita e tutte queste cose, può essere utile e può sopportare, può aiutare moltissimo a una persona. Logicamente se uno riesce a trovare una ragione, farsi una ragione di tutto quello che gli sta capitando anche nella religione, ben venga, può essere un aiuto assolutamente valido. Certo, ecco specialmente per gli anziani che sono costretti a casa. La tecnologia può essere di aiuto, magari la televisione innanzitutto, la radio, quindi continuare in qualche maniera a interagire o perlomeno a seguire ciò che accade nel mondo. Questo è uno strumento che voi in qualche maniera suggerite e che ha un proprio ruolo. Sì, sì, riuscire a essere attivi a livello cognitivo, essere aggiornati sull'attualità, sull'essere, anche sviluppare un po' la voglia di sapere, di essere aggiornati appunto su cosa sta capitando, è un fattore che aiuta tantissimo. Penso che nelle prossime generazioni magari già di gente adesso, di adulti che usano in diverso modo, anche se si pensa ai vari social media, social network, queste cose qua, potranno essere anche uno strumento valido, no? Già per aiutare a sbloccare quell'isolamento che può essere anche causato a livello fisico, no? Reale. In questo senso potrà essere, sarà molto interessante seguire e ragionare su questo. Senta, un'ultima cosa, si può fare prevenzione in qualche maniera? Cioè si può preparare una persona a quello che può essere un percorso meno felice avanti nella vita o magari abituandosi già da più giovani, quando ancora si è in età lavorativa, eccetera, ad avere un atteggiamento, forse sto facendo così un po' di utopia per certi versi, no? Ma avere un atteggiamento più positivo e soprattutto capace di affrontare quello che poi il destino riserva con un certo atteggiamento non catastrofico, ecco, potremmo dire così. Ma quello che dicevo anche all'inizio, no? Del fatto che sicuramente la nostra cultura, no? Della nostra società non va a aiutare in questo senso, logicamente, all'altro canto ci possono essere percorsi in cui si impara un po' fare prevenzione, vorrebbe dire più che altro, ma questo in ogni momento della propria vita, no? Essere consapevoli e accettare l'età che si ha, no? Perché spesso il problema nasce dal fatto che non si va ad accettare i cambiamenti che capitano, no? E questo lo si vede dalle crisi di mezz'età e poi, no? Mentre accettandole o anche logicamente abbiamo tantissima letteratura, no? E anche, non dico solo religiosa, ma anche filosofica, in cui si può trovare, no? Una sorta di ragione di tutta la nostra esistenza, no? In questo ci sono alcuni che fanno anche proprio percorsi di consapevolezza, di accettazione e questo può essere un grande aiuto. Certo. Ultimo aspetto che riguarda invece proprio i professionisti come lei, ci sono una specializzazione specifica per occuparsi dell'anziano o della terza età o rientra nella formazione, nel background che ciascuno riceve con il suo percorso di studi? No, adesso si sta sviluppando una branchia che proprio va a... Specificamente rivolta. Specificamente rivolta all'anziano, no? Ma proprio è una branchia abbastanza nuova, però appunto dato che l'età media si sta allungando e tutto quanto sta cambiando nella nostra società è da diversi decenni che si sta studiando anche il modo per affrontare determinate cose che fino a vent'anni fa non erano affrontabili. Certo, quindi da questo punto di vista lei è ottimista se vogliamo, senza fare ovviamente auto-referenzialità, però ritiene che sia la strada corretta, che ci voleva in qualche maniera che la professione del psicologo prendesse specificamente in esame a questo tipo di situazione, visto comunque l'aumentare dell'età. Non solo a Trieste, ma in generale, no? Sì, no, io sono fondamentalmente, sono convinto che sia necessario anche proprio per una questione di riuscire di nuovo a dar valore a una senilità, a un'anzianità, che può essere veramente una cosa molto importante per tutti, per tutta la società. Certo, un investimento anche in qualche maniera. Un investimento, perché se si pensa, io penso anche lei, io ho conosciuto persone anziane che magari adesso non ci sono più, però erano ancora quegli anziani che erano molto consapevoli del proprio corpo, del proprio modo di pensare, di cosa hanno fatto e anche vedevano con felicità, diciamo, no? Di andare verso una fine bella, no? Questo penso sia la strada giusta da prendere. Benissimo, Dottor Spettici, la ringrazio per questa interessante chiacchierata. Noi ci fermiamo come di consueto per un breve stacco pubblicitario e poi la seconda parte di Trieste in diretta, dove come preannunciato parleremo di omicidio stradale. A tra poco. Seconda parte di Trieste in diretta, sono in compagnia del Dottor Lucio Copuletti, che è uno dei membri dell'Associazione di Promozione Sociale in Prospettiva qui di Trieste. Buonasera. Buonasera a lei. Ben trovato. Allora, io spenderei due parole per raccontare un po' cos'è questa associazione, quando è nata, quali sono le fidelità, quali sono i soci e le attività che svolgete. E poi arriviamo al tema specifico di questa parte di Trieste in diretta. Allora, diciamo che l'Associazione di Promozione Sociale in Prospettiva è nata più o meno un anno fa dall'interesse o dal desiderio di alcune persone, professionisti triestini, che hanno deciso di mettersi, se vogliamo dire, a servizio della collettività per una serie di finalità. La finalità primaria è quella di offrire una chiave di lettura ad una serie di problemi che investono il mondo, naturalmente non vogliamo essere così grandi, ma delle cose molto semplici per dare una chiave di lettura a delle cose che sono oggi complicate. Qualsiasi problema oggi è complesso. Una volta io risolvevo una cosa molto semplicemente, oggi devo alzare il telefono e parlare con un call center per qualsiasi cosa semplice oggi, purtroppo. Allora, dei professionisti che investono tanti campi, da quello legale alla consulenza del lavoro, voglio dire, a quello che forse mi riguarda di più a me sull'aspetto assicurativo, tutti questi professionisti si mettono a servizio, diciamo, della collettività e anche naturalmente degli associati, no? Certo, certo. Quindi diciamo una sorta di guide per affrontare i tanti garbuggi quotidiani che spesso creati in maniera, non dico voluta, ma frutto di un'evoluzione, forse sbagliata per certi versi, della società per i quali appunto serve avere una sorta di faro che illumina il percorso. Diciamo di sì, diciamo che istruzioni per l'uso, ma non di istruzioni per l'uso, oggi se io compro un telefonino ho un libro da leggere, no? Una cosa molto più semplice. Ecco, torniamo al discorso, oggi è diventato difficile fare qualsiasi cosa, cioè io leggo, sfido qualsiasi persona ad aver letto il bugiardino di un medicinale, cioè l'aspirina ha un libro di tre pagine, ed è un'aspirina. Banale aspirina, più o meno nell'uso, però che in realtà appunto poi deve, sono le leggi che prevedono che questo tipo di foglietto che è all'interno dei farmaci debba essere così articolato, che poi magari uno va a leggerlo, scopre o immagina, pensa di avere stessa quali altre patologie, perché poi se tu lo leggi sicuramente non esci rinfrancato nella maggior parte dei casi. Ecco, poi è interessante questa vostra idea così di mettervi a disposizione, di mettere a servizio della collettività le vostre esperienze professionali quotidiane, perché in qualche maniera va un po' a contrastare quella che è un'abitudine, spesso così abusata, di andare a cercare soluzioni su internet, di andare sul web, e quindi dove lì ovviamente ognuno di noi può essere così preda delle informazioni più diverse, spesso o talvolta, magari non stiamo a essere così pessimisti, sbagliate o incomplete o furvianti. Diciamo che la rete sicuramente offre un'immensità di soluzioni, però è una soluzione che sta solamente sul pelo, sul pelo dell'acqua, cioè io non posso andare in superficie, io devo restare in superficie, io non posso mettere la testa neanche 5 centimetri sott'acqua, perciò la notizia può essere una notizia, non è una conoscenza, la differenza fra notizia e conoscenza è evidente e io non posso penetrarla. Oggi invece tutto è diventato complicato, perché qualsiasi tipo di lavoro ha degli aspetti tecnici o anche degli aspetti di carattere culturale che non sono sempre immediatamente percepibili. Certo, e richiedono una specializzazione che appunto non è più alla portata di tutti, perlomeno come poteva essere fino a qualche decennio fa, perché ormai insomma il tempo passa e noi siamo magari ieri, noi che abbiamo vissuto la rivoluzione appunto della rete, in realtà ormai sono quasi 30 anni tra una cosa e l'altra, che stiamo utilizzando internet, perché l'università era la prima, i primissimi così mode, ma ancora per collegarsi a 24-56k, che era una cosa velocità che sembrava chissà cosa oggi, parliamo di gigabyte al secondo. A me ha colpito, un paio di settimane fa, ho visto in tv dei bambini alle prese con un telefono di quelli a disco, era eccezionale vedere questi bambini che guardavano sta cosa, non capivano perché non trovavano il display, perché non vedevano i tastini con l'1, 2, 3, ma una roba tonda che è boh, chissà che cos'è. Si chiedevano come si fa mandare un passaggio. Assolutamente sì. Ecco, senta, questa vostra attività si estrinsega anche attraverso una serie di incontri, di tavole rotonde su varie tematiche. Sì, diciamo che abbiamo promosso in questa fase una serie di sette conferenze che andranno a colpire, se vogliamo dire, o a cercare di colmare una serie di lacune per moltissimi casi. Il primo di queste conferenze è stata la settimana scorsa e riguardava l'omicidio stradale. Poi ce ne saranno delle altre, per esempio fra due settimane si parlerà di pensioni e poi si parlerà di tanti altri casi, come ad esempio di immobili, oppure di cosa significa andare a fare baruffa da un amministratore, per esempio. E tanti altri casi di questo genere. Poi la responsabilità civile per quanto riguarda, per esempio, i casi di sanità. Allora, ogni due settimane faremo questa cosa qua, sempre a lunedì, sempre al pomeriggio, al Salone degli Incanti. Salone degli Incanti alle 16.30, durerà un paio d'ore. Certo, in quella sala che c'è entrando, che si sale su per la sinistra. raccomando chi va lì di non vestirsi troppo, perché fa un caldo spaventoso. Ah beh, c'è uno spaventoso. Spaventoso, ho capito. Ecco, allora, il tema dell'omicidio stradale, purtroppo un tema di grandissima, a noi attualità, anche oggi c'è stata una vittima, un triestino che, mentre andava a lavoro, questa mattina in scooter a Monfrecone, ha purtroppo perso la vita. Vittima inconsapevole, perché c'è stato uno scontro fra altri due veicoli, da quello che, perlomeno, finora è dato sapere, da quanto abbiamo ricavato dell'informazione che ci ha fornito la polizia stradale di Gorizia, che è competente per il territorio, lui appunto si è trovato a essere presente, a essere nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Cioè, uno scontro fra un autobus e un furgone, che ha coinvolto inevitabilmente anche lui, però, mentre gli occupanti dei due veicoli non si sono fatti niente, lui, ahimè, ha seguito della caduta rovinosa a terra, ci ha rimesso la vita a 51 anni, insomma, non è... Io posso darle un dato, che l'anno scorso, nel 2017, ci sono stati a Trieste nove incidenti mortali. Beh, e non solo, la cosa è già grave di per sé, voglio dire, nove incidenti mortali, ma ci sono stati anche tre incidenti gravi di feriti al giorno. Quasi mille, eh? Cioè, non è una cosa da poco. No, anzi. Cioè, in una regione, come Friuli Venezia Giulia, certamente ci sono una quantità di incidenti più elevata e naturale, però, nella nostra provincia, così concentrata, diciamo, così piena anche di difficoltà e di pericoli, cioè, questo mi pare che non sia poco. No, no, sicuramente non è un dato di cui vantarsi anzi. Assolutamente no. È molto preoccupante. Ecco, ma da questo, per quanto è la vostra esperienza anche professionale nel campo del settore, appunto, della gestione dei vari aspetti della guida, dell'automobile, dello scooter, ma dello spostarsi su un veicolo a motore, la causa principale, ce ne sono tante, no, di cause che possono provocare un incidente stradale. Prima si parlava di nuove tecnologie, ecco che già l'avere un cellulare, ad esempio, è uno strumento di grande distrazione se usato mentre si sta guidando. Ma non solo, poi c'è l'alcol, ci sono le droghe, ci sono anche forse una sorta di inabilità. Io a volte mi chiedo, insomma, hai salto un po' di pali in frasca, ma a Trieste c'è la commissione medica, come dappertutto, che rinnova dopo una certa età la patente con una certa frequenza. Alle volte ti chiedi come determinate persone possano avere ancora in tasca la patente e un veicolo da condurre, perché, insomma, alla fine ci vorrebbe anche forse una sorta di autoconsapevolezza di dire, no, è meglio che, visto il mio personale stato, mai ci vedo di meno, ho i riflessi meno pronti, eccetera, che preferisco prendere un autobus, un taxi, piuttosto che rischiare danni a me stesso e soprattutto agli altri. Diciamo che la stragrande proporzione di incidenti stradali viene data da una causa, che è la velocità. La velocità è certamente l'aspetto più difficile, anche perché non ci rendiamo conto, ma un'automobile a 50 all'ora in un secondo fa 27 metri. Allora, basta spostare gli occhi per un attimo e io ho fatto 50 metri. Sinceramente, già questo bisognerebbe avere la consapevolezza di una cosa di questo genere e ci si rende conto che quando si guida non si può fare altro. Infatti, ieri sera, che c'è stata la conferenza, a un certo punto è uscita una slide molto interessante da parte del comandante ad Abbatte dei Vigili Urbani che diceva quando guidi non parlare al telefono, ma io direi quando guidi non far niente d'altro. Cioè, oramai, io sono costretto per lavoro a girare in scooter in questa città, ma abbastanza, diciamo... Io ci giro quotidianamente con quasi qualsiasi tempo. Anch'io. E farò più o meno 100 km alla settimana. perciò quando sei sullo scooter e ti fermi al semaforo oppure cammini diciamo piano ti rendi conto di quello che fa la gente. La gente è una cosa tremenda. Cioè, parla al telefono ma non solo. Risponde a messaggi, guarda Facebook, Whatsapp è diventato un altro dramma. Io addirittura vedo persone che con una mano fuma e con l'altra parla al telefono. Cioè, io dico vorrei capire come guida. Perché effettivamente è una cosa assurda. Certo, certo. Va detto però che non dobbiamo colpabilizzare solo gli automobilisti, i motociclisti, i guidatori in generale. Anche i pedoni ogni tanto e ciascuno di noi magari se non lo stesso giorno ma nell'arco magari della settimana può ricoprire entrambi i ruoli. Oramai purtroppo in questa città è diventato di prammatica passare col rosso. Cioè, i colori sono diventati un optional. Siamo tutti daltonici. Ecco, i pedoni e gli automobilisti. Ieri sera e i ciclisti. E i ciclisti poi neanche non parlo. Ieri sera ho saputo una cosa molto interessante. Allora, non solo non si dovrebbe passare col giallo ma c'è chi dice ma in fondo è un rosso fresco. Io passo perché questo rosso è ancora fresco. Cioè, non è un rosso antico. Non è un rosso maturo. Cioè, un comportamento di questo genere secondo me è demenziale. Devo dire la verità. c'è una battuta penso che è riferita a qualche città del sud ma è riferita a arancio acerbo quasi verde o rosso acerbo quasi verde quindi poi sono quelle cose italiane il rosso fresco eccetera. Ecco, l'omicidio stradale è una legge ormai di due anni fa siamo alle 2018 quindi sono due anni. Allora diciamo diciamo che non è che la fattispecie dell'omicidio stradale non veniva punita prima. certamente. certamente. Però, diciamo, da due anni a questa parte l'omicidio stradale è punito più gravemente. Perché partiamo da un presupposto. Allora la responsabilità può essere anche parziale. Mi spiego. Io vado per strada parliamo di un caso successo avvenuto due anni fa un campione mondiale di moto Nicky Hayden sta andando per una strada di campagna si mette in una strada della provincia di Ravenna mi pare e ad un certo punto lui c'è la strada tutti la colonna va a 70 all'ora dove c'era un limite di 50 ma quando sei in colonna devi stare in colonna non è che puoi fare granchè a un certo punto questo questo disgraziato questo povero malcapitato se vogliamo dire svicola e arriva davanti alle ruote di un'automobile e ci resta sotto cioè naturalmente questo ha creato una serie di problemi enormi il primo problema se vogliamo dire di carattere morale no? perché uccidere una persona per una persona normale non è semplice no? credo che è una cosa che ti segna per tutta la vita ma non solo il giudice anzi per la verità la procura della repubblica ha ritenuto che l'automobilista aveva una responsabilità il 30% perché nonostante che il ciclista sia entrato di forza da una strada praticamente invisibile e se lui andava a 50 all'ora invece di andare a 72 aveva i margini ecco aveva i margini allora io trasporto questa esperienza nella nostra esperienza allora uno ha lasciato Roiano passa il cavalcavia di ferroviario e poi si trova di fronte al retilineo di Barcola io vorrei sapere quanti vanno a 50 all'ora ecco ed è una cosa banalissima lo fanno tutti allora il problema dell'omicidio stradale non riguarda i drogati e gli ubriaconi riguarda tutti perché la la il la colp cioè la la minore pena è da 2 a 7 anni cioè se io uccido qualcuno vado in prigione da 2 a 7 anni se poi sono drogato ubriaco eccetera eccetera è ancora peggio vado da 5 a 10 anni se poi lo faccio per lavoro nel senso che sono un camionista posso arrivare a 15 anni però non solo se sono un camionista anche se vado con un camper perché se io ho un'auto mezzo che pesa più di 3 tonnellate e mezza perciò un'auto con una roulotte sono parificato ad un camionista perciò il problema è complesso enorme e non solo non è solamente il fatto dell'omicidio stradale è anche il problema delle lesioni allora le lesioni gravi sono punite per esempio se l'omicidio è da 2 a 7 anni le lesioni sono da 3 mesi a un anno allora cosa significa lesione grave lesione grave significa più di 40 giorni di prognosi di prognosi allora 40 giorni di prognosi cosa sono sono una gamba rotta cioè con una gamba rotta io vado incontro a questi problemi qua questo è il problema primario ecco dal punto di vista poi c'è anche l'aspetto assicurativo di risarcimento che può qualche volta non scattare se viene dimostrato che non era appunto in condizioni di donna a guidare mi sembra di avere sì beh ma ci sono tutta una serie di esclusioni cioè il problema se vogliamo dire se partiamo dal punto di vista assicurativo è ancora peggio nel senso che non è vero che tutte le compagnie sono uguali no ci sono delle compagnie che dicono chiaramente che nel caso in cui il trasporto si è effettuato non in corrispondenza con il perito di circolazione oppure in violazione delle norme no certe garanzie assicurative non partono per esempio no i terzi trasportati non vengono pagati dalla compagnia vengono pagati dal responsabile no ecco perché la compagnia dice ma mi dispiace ma tu stavi parlando al telefono oppure tu avevi le gomme al di sotto dello 0,3 o dei 3 mm che in Slovenia per esempio sono 4 mm perciò se io sono in regola in Italia dall'altra parte non sono in regola poi c'è questa difformità appunto di normative tra stato e stato anche confinanti quindi esatto perciò aver saltato o aver rimandato magari anche a di sotto di una settimana una revisione è un regatore questo pure la revisione pure anche se poi magari la macchina è perfetta perché fai i tagliandi sei in regola con tutto le gomme sono perfette però la revisione saltata manca l'adesivino che ti mettono sul livello di circolazione e quindi anche questo anche questo incide quindi diciamo così è una buona educazione al di là degli aspetti appunto morali del senso di colpa della tragedia che uno può avere anche personale abbiamo visto anche dei casi qui c'è gente che è arrivata a togliersi la vita perché a sua volta aveva provocato l'incidente ammazzando magari i bambini mamme eccetera quindi poi è chiaro che la situazione emotiva che si genera è molto pesante ma al di là di tutto questo è chiaro che ogni giorno che ci mettiamo al volante di qualcosa che non sia attrazione umana cioè una bicicletta la parte di discorso su biciclette deve renderci consapevoli che abbiamo un'arma per certi versi sotto il sedere ecco mi passi questo termine certo la responsabilità cioè noi dovremmo essere sempre consapevoli e responsabili dell'importanza delle cose che facciamo certo e spesso e volentieri invece lasciamo perdere cioè sembra che sia una cosa automatica non niente automatico al mondo ecco in questo senso la vostra associazione al di là di questi sette appuntamenti di confronto di dialogo di informazione avete così anche il programma di fare proprio dei corsi di educazione di sensibilizzazione ma è per la verità se si è parlato di questa cosa qua proprio qualche giorno fa perché siamo ospiti di un circolo triestino e questo circolo triestino ha un gruppo di giovani e effettivamente sarebbe veramente utile avere la possibilità ci hanno chiesto di farlo di fare delle sessioni se vogliamo dire o delle conferenze dei dibattiti delle chiacchierate con un gruppo di persone oggi purtroppo le persone più informate non sono quelle che hanno i rischi maggiori spesso e volentieri noi siamo di fronte ad una strana rimozione culturale di una serie di problemi cioè a me non riguarda a me non succede però purtroppo succede perché tre incidenti gravi in questa città al giorno non sono una cosa da poco no no c'è rapportata sia all'estensione che anche gli abitanti in età diciamo di cano una patente è sicuramente dal punto di vista statistico un dato preoccupante certo che poi certe zone della città dovrebbero essere illuminate meglio le frisce pedonali magari sempre perfettamente visibili i semafori anche in determinati incroci dove magari adesso mancano adesso si sta magari cercando di ovviare facendo le famose rotonde che signora Tavia ha visto che in un paio di casi penso a via Flavia il fatto che ci sia una rotonda non ha impedito a una o addirittura a due persone di trovare così di vero un incidente mortale per cui torniamo sempre all'inizio puoi prendere tante misure collaterali per evitare per combattere questo tipo di situazioni però l'educazione e la consapevolezza del singolo sono alla base di tutto quanto ma certo anche le norme sull'omicidio stradale per esempio prevedono una serie di attenuanti però il fatto che mi venga ridotta la pena di un terzo perché c'era un attenuante non non implica assolutamente che io non abbia una responsabilità perciò questa è papale patente e avere e avere la responsabilità avere un minimo di reclusione di due anni significa che io vado in prigione c'è un signore con una cappa nera che dice che io devo andare in prigione e non può non farlo perché il minimo della pena sono due anni questo è il problema e quindi anche misure alternative come i domicidiari non sono applicabili poi il giudice stabilirà naturalmente non possiamo essere certamente noi a dire cosa e come però il rischio c'è il sovraffollamento delle carceri è uno dei motivi per il quale magari se questo tipo di reati dove c'è il dolo ma non c'è la pericolosità sociale almeno entro certi limiti è chiaro che magari una detenzione a livello domiciliare può essere più affecchimamente applicata sì in questo momento stiamo includendo il dolo parliamo solamente di colpa ecco ecco in particolare ancora un'ultima cosa abbiamo ancora aggiunto due minuti spesso sentiamo leggiamo di incidenti stradali gravissimi dove a volante c'erano persone neopatentate giovanissime ecco in questo senso quindi c'è anche forse una carenza per quanto riguarda anche a livello della scuola guida dell'esame di patente nel formare i neopatentati io sfido chiunque a dire che quando hai preso la patente sai guidare cioè hai preso la patente hai superato l'esame ma non sai guidare cioè il saper guidare viene dopo viene con la consapevolezza probabilmente viene anche con il primo incidente no? cioè qualcuno si sveglia io mi ricordo che a 19 anni ho fatto una curva un po' esagerata e sono andato contro due macchine ferme no? quello mi ha dato la sveglia ho capito per fortuna quelle macchine erano cioè ho fatto un danno definito lì però quella cosa mi ha dato la sveglia per tutta la vita ho capito che non si può lasciar perdere che bisogna essere sempre attenti io ho avuto alla stessa età un'esperienza analoga solo che la sveglia me la dà mio padre perché ero con la sua macchina all'epoca non c'erano i mezzi per comprarmi una macchina personale mia quindi usavo quella del babbo che veniva concessa una volta alla settimana e penso dopo poco che iniziavo a usarla appunto anch'io ho fatto così una curva o comunque una mossa azzardata fanno tampolato un danno neanche di quelle odio però sufficiente che il babbo si irritasse non poco credo che il mio padre aveva abbastanza paura per cui ed è stato abbastanza educativo anche se appunto poi nei anni successivi qualche piccolo altro tamponamento poi capita perché poi insomma potessimo prevedere anche oggi le autovetture sono dotate di sensore di distanza di auto di freno che si auto agisce se si ritrova vicino tutte appunto strumentazioni utili ma alla fine nessuna risolutiva siamo umani e fallibili questo è normale evidente però passare dalla fallibilità alla colpevolezza non bisogna farlo questo no benissimo ringrazio il dottor Lucio Coppoletti della solidazione di promozione sociale in prospettiva qui di Trieste fra l'altro dove avete sede se uno volesse contattarvi galleria Fenice presso il circolo Fincantieri quindi al primo piano entrata da via San Francesco via San Francesco 5 benissimo grazie ancora a voi tutti per averci seguito Trieste in diretta anche stasera termina qui ci rivediamo domani sempre alle 18 a tutti una buona serata e un buon proseguimento di programma di Tele4 arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti